Eccoci, siamo partiti. Cominciato oggi il nostro cammino sull'antico tracciato pugliese della via Appia, da Taranto a Brindisi, narrando territori, persone e culture. Qualche inciampo nella partenza. Da Roma Termini abbiamo perso una valigia, che poi però è stata fortunatamente ritrovata. Qualche ritardo, però eccoci arrivati a Bari Centrale per il primo cambio di treno. Un altro piccolo inciampo e dobbiamo cambiare treno a gioia del fondo. Ci guadagniamo, è una vettura più nuova. Siamo pronti ad affrontare questo meraviglioso paesaggio alla volta di Taranto. Ci aspettano gli incontri nei Gal Magna Grecia, terre del Primitivo e terre dei Messavi. Ci accoglie un mare di luce e un albergo meraviglioso. Siamo pronti per la visita al Martà.